ben tornati a sfogliando estate come vi accennavo questa mattina oggi il mio consiglio per sotto l'ombrellone è le magie di Ilaria Weinger della Galad edizione una copertina meravigliosa che si presta ai colori dell'estate è la raccolta di 13 racconti di questa scrittrice insegnante che racconta in realtà la vita quotidiana quello che accade le esperienze che ogni giorno possiamo fare l'amicizia l'amore la genitorialità le esperienze le prime cotte però il merito di Ilaria è quello di saper padroneggiare e conoscere perfettamente la parola perché non solo racconta la vita ma racconta anche quelle delle quelle cose che della vita proprio non vanno e sto parlando delle crepe dei dolori e lei ha la padronanza di saperle slabrare raccontare e mostrare con una scrittura davvero potente e prima di lasciarvi un piccolo assaggio del libro di Ilaria nonna e Gianni si erano dati un bacio sulla bocca io ero dietro le onde li avevo visti da lontano era stato un bacio piccolo che era durato il tempo di togliermi il sale dagli occhi nonno diceva che le cose preziose si devono guardare senza toccare altrimenti possono rovinarsi e infatti sopra il suo pavimento ci eravamo passati il meno possibile solo con i calzini il secondo matrimonio di nonna mi era sembrato come i gigli che fioniscono sulle dune dove non cammina mai nessuno così avevo nuotato più a largo fino a quando l'acqua era diventata scura e la terra silenziosa il bellissimo libro di Ilaria Weingart le magie della gala d'edizioni per la vostra estate immergetevi perché è davvero un libro meraviglioso buona estate